Ieri in Consiglio Comunale tra gli altri punti all'ordine del giorno c'era anche la delibera per la premialità del Presidente Aset che secondo noi presentava dei punti di irregolarità abbastanza discutibili. I due punti che abbiamo contrastato maggiormente sono stati il fatto che i parametri del premio sono stati avanzati praticamente a fine anno, per il 2017 e quindi non decisi ad inizio anno e verificati per il loro raggiungimento ma forse obiettivi già raggiunti e poi il fatto che la cifra del premio era di 35.000 euro maggiore dello stipendio che è di 31.000 euro. Quindi a questo punto l'unico modo per fermarla è stato quello di uscire dall'aula. Siamo usciti tutti, il gruppo d'opposizione e anche Riccardo Severi, consigliere del gruppo misto. Secondo noi non sarebbe stato un gesto di responsabilità rimanere in consiglio ma sarebbe stato un gesto di stupidità perché il risultato politico maggiore è stato bloccare questa delibera e quindi la città ha risparmiato 35.000 euro. Una delibera che non è passata per motivi di etica secondo la vostra visione? Sindaco e maggioranza hanno portato anche l'anno scorso e anche quest'anno una delibera per dare 35.000 euro ad un incarico politico, cioè la nomina del presidente dell'ASET che fa il sindaco, quindi un incarico politico. Noi l'abbiamo bloccata questa delibera, abbiamo fatto ovviamente saltare il Consiglio Comunale, era l'unico modo che avevamo e il secondo anno, come dicevo prima, che la portano sotto banco in mezzo a tantissime altre delibere. Io credo che in un momento di così grave crisi economica, con tutti i cittadini che non se la passano bene, non sia dalla parte della politica un bel segnale quello di dare un premio di 35.000 euro a un incarico politico.